bella a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su fifa 17 per un terzo episodio oggi andremo a conquistare il titolo del foot eccoci qua ragazzi voi state sintonizzati che domani sarà un giorno speciale per voi e anche per me eccoci qua ragazzi inizieremo questa partita oggi potrebbero assicurarsi anche il titolo in campo di pareggio o di vittoria non hanno di nulla da perdere così mi permetterà di giocare più sciogli più leggeri senza contare che non ha disposizione ma anche in gara ecco lo schieramento dei padroni di campo scendono in campo con un 5 r2 piuttosto coperto o almeno questa è l'impressione che se ne ricava giudicare dai due potrebbe sembrare sì il fatto che abbiano deciso comunque di mantenere due punte implica che non staranno solo a guardare ma cercheranno anche se ne scuole vado avanti perde parte no E' un tiro! Continua in cicchità a casa, ma in cielo può essere il poder? Nope! Pallone che è terminato di poco in un fondo, questa bella iniziativa dell'attaccante. Si è rivolato verso la porta pallo al piede, ha mancato il bersaglio per ma... Questi... E? Volevi! E poi il pallone che è, ma che occasione! ... Nope! ... Palla che termina l'anzialissima dalla porta di umano al portiere Fernando Navarro Grande giocata! Nope! La conclusione da dimenticare, ma non è altissimo, corpo all'indietro. Il suo movimento. Cercano col tiki-taka, il momento inizio. Ottima la lettura di Perfetto. Cercano il corner, c'è spazio per andare. E c'era la conclusione. Attenzione, ecco il gol! Controllano molto bene il processo del pallone. Gran pal, trova la porta. Non è riuscito a trovare lo speggio della porta, poteva essere in base. Perse una grande occasione di essere parecchio. Paragna vetri. Palla recuperata, azione interrompta. Senza problemi qui per la difesa. Perfetto. Parti è grosso, sicuro l'intervento del portiere che blocca... ecco il calcio di inizio al secondo tempo occhio cerca l'area di rigore palla girata sulla corsia sfrecano questo cross nessun problema occhio al gioco vivento e il pallone è nope ci siamo al gioco si va tiro hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0 fermato dal difensore Tocco di ritorno Ci sono metri a disposizione Grande giocata Ecco il tiro Una parada incredibile Buono l'appoggio Si rispera giustamente Ma deve essere una buona opportunità Occhio cerca l'ave di rigore Cross e mezzo Buono il cross Prova a calciare Palo esterno Il pallone esce Niente raga Non abbiamo conquistato il titolo per oggi Che vi devo dire Oggi è tutto Ci vediamo al prossimo video Bye bye I spent the last two weeks just winning I spent the last two weeks just winning Try to work you out It's winning Everything's all my heart's missing Bye bye I spent the last three months just winning I spent the last two weeks just winning E'eruncine 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 Grazie per la visione!